La possibilità di approfondire le mie conoscenze sui prodotti che già distribuisco e che mi fanno forza nei confronti dei miei clienti, che mi danno la possibilità di migliorare i servizi che do ai miei clienti. La condivisione delle problematiche con altre figure, altre società, collaboratori che fanno il mio stesso mestiere e che condividono i miei stessi problemi.